Essere in acque tranquille, come due gocce d'acqua. Alla fine ne è passata di acqua sotto i ponti. Fare un buco nell'acqua. Avere l'acqua alla gola. Fare acqua da tutte le parti. Rompere le acque. Quanta acqua occorre per descrivere un'intera vita. Eppure domani potrebbe non bastare più per ognuno di noi. L'acqua nel nostro futuro dipende da una scelta che possiamo compiere oggi. L'ente idrico campano garantisce la disponibilità dell'acqua e la qualità dei servizi idrici a tutti i cittadini campani con criteri di equità e trasparenza. Vai sul sito enteidricocampano.it e scopri come risparmiare la risorsa più preziosa nel modo giusto. Fai la tua parte perché meno acqua sprechiamo oggi più futuro ci garantiamo domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Riprendono i nostri percorsi d'acqua nei sette distretti idrici della regione Campania. Dalla sorgente al rubinetto e ritorno. I percorsi che indagheremo in questo nuovo ciclo di puntate ci porteranno alla scoperta non solo delle sorgenti, indagheremo anche i sistemi di depurazione delle acque. E per farlo andremo indietro nel tempo e ci proietteremo nel futuro con le ultimissime tecnologie messe a disposizione dell'uomo. L'obiettivo finale è quello di avere acqua fonte di vita, acqua pulita, acqua che sgorghi attraverso i fiumi e il mare che restituisca ancora vita. Questa è la grande sfida. Ricominciano i percorsi d'acqua. In un tempo lontano, sulle pendici dei campi flegrei, vi era un'antica grotta avvolta nel mistero, conosciuta come l'antro della Sibilla di Cuma. Questa caverna, nascosta tra la fitta vegetazione, era la dimora della Sibilla cumana, una sacerdotessa dai poteri profetici donati direttamente dal dio Apollo. La leggenda narra che la Sibilla, con i suoi occhi penetranti e la voce che sembrava provenire dall'oltretomba, era in grado di predire il destino degli uomini. I re e gli eroi giungevano da terre lontane per cercare le sue parole di saggezza, ma non tutti trovavano ciò che desideravano. Le sue profezie erano spesso criptiche, a volte in enigmi che solo i più saggi potevano decifrare. Col passare del tempo, le profezie della Sibilla divennero leggenda e l'antro di Cuma, avvolto dal silenzio, restò un luogo sacro e temuto. Anche se la Sibilla non vi abita più, l'aura di mistero che circonda la grotta sopravvive, come un eco delle sue antiche parole, sospese tra i veli del tempo. E' una delle icone del Parco archeologico dei Campi Flegrei, una delle icone del Parco archeologico di Cuma. Una galleria scavata nel tufo, il tufo giallo, quindi l'energia della geologia così vivace anche in questi giorni della nostra regione. scavata dagli uomini, gli uomini probabilmente in età sannitica, noi parliamo di circa 2450 anni fa, per una forse banale cava di materiale, fino a questa quota, fino a dove c'è questo spessore, questo rigonfiamento. E poi in età romana riabbassata fino appunto a livello attuale, con due storie che sono legate alla coltivazione, cioè a prelevare materiale geologico e poi a usarla come percorso militare. Forse delle fortificazioni che costeggiano il lato verso il mare, ma in realtà quando entriamo in questo spazio, quando percorriamo questo luogo e quando lo vediamo, il pensiero vola e va verso Virgilio, ripercorre le pagine, le righe del libro sesso dell'Eneide, dove ci si parla di questo antro immane, antro immane che si apriva in questa rupe oboica dove le persone, e che persone no? Virgilio ci parla di Enea, venivano qui per incontrare questa sacerdotessa di Apollo che offriva responsi e offriva anche la possibilità di entrare in contatto con quel mondo octonio, sotterraneo, di cui i campi flegrei erano una delle porte principali. Il percorso d'acqua attraversa in qualche modo l'antro, se non altro, per la presenza di cisterne, no? Assolutamente, nelle sue varie storie questo luogo che noi continuiamo a chiamare Antro della Sibilla è stato tante cose e c'è una fase in cui l'acqua veniva convogliata attraverso delle canalette tagliate lungo il muro e coinvolgliata verso delle grandi cisterne. È la fase in cui Cuma era una grande città e la risorsa idrica era una risorsa fondamentale. La storia dell'acqua e di Cuma è una storia intrecciata come tutte, ovviamente, le situazioni di abitati importanti. Mi vengono in mente le grandi attività fatte dai greci fin dall'inizio della loro presenza qui, ma con un momento di massimo sviluppo, con grandi infrastrutture al tempo di Aristodemo, siamo alla fine del VI secolo, un tiranno illuminato che portò Cuma sui massimi livelli. Beh, lì abbiamo grandi operazioni di bonifica. Bonifica che andava a far arretrare la palude di Licola e far diventare quei campi utilizzabili per l'occupazione umana, per costruire e allargare la città. E ancora abbiamo quelle tracce, che poi si sovrappongono, o meglio su quelle, si sovrappongono le storie delle altre bonifiche fatte in età romana, grandi canalizzazioni, sistemi in cui l'acqua veniva domesticata per renderla funzionale la storia degli uomini che hanno scelto questo luogo, fino ad arrivare ai grandi collettori borbonici. Un'altra volta operazioni di bonifica, un'altra volta il lago di Licola va quasi a scomparire grazie a queste attività e un'altra volta grandi collettori che servono a regolamentare questo flusso di acqua, renderla una risorsa e non un problema. C'è un primo e c'è un dopo nell'impianto di depurazione di Cuma. Questo impianto si inserisce, i lavori di questi impianti si inseriscono in un grande progetto, il grande progetto Regilagni che la Regione Campania ha lanciato già a partire dal 2012, nell'esigenza di adeguare e di portare alle migliori pratiche tecniche e tecnologiche europee, non solo all'impianto di Cuma, ma anche altri quattro impianti della fascia costiera. Il primo, assolutamente sì, l'impianto versava in uno stato di degrado manutentivo storico dovuto al fatto che l'impianto è stato costruito dalla Cassa del Mezzogiorro circa 40 anni fa, per cui necessitava di una rifunzionalizzazione. Ma non solo, la Regione ha voluto anche potenziare e adeguare l'impianto per portarlo, ripeto, come dicevo prima, ai massimi livelli tecnologici europei. Quindi questo impianto, che è uno dei più importanti d'Europa, non solamente d'Italia, quindi come dimensione, ricorda che è un impianto che ha una potenzialità di 1.200.000 abitanti, depurativa, anche se attualmente riceve una quantità inferiore, per cui ha una potenzialità residua che non è sfruttata al momento. Dicevo, l'impianto è stato quindi rifunzionalizzato, quindi non solamente le attrezzature e gli equipaggiamenti che erano disponibili sono stati rimessi nelle condizioni di funzionare come all'inizio, diciamo, quando sono stati costruiti dalla Cassa del Mezzogiorro, ma anche sono state introdotte nuove sezioni di impianto che hanno consentito all'impianto di ridurre l'impatto sull'ambiente e di recuperare una serie di costi e di efficienze interne che erano disponibili ma non sfruttate fino a quel momento. Mi trovo in un'area archeologica di estremo interesse e una bellezza naturale incredibile, per cui è importante avere su questo territorio un impianto come questo che funzioni al meglio e che metta il territorio nelle condizioni di ospitare e di accogliere turisti studiosi nelle condizioni ottimali per godere delle bellezze della zona. Ha mai pensato in questi sette anni di non farcela, di non vincere questa che è stata una sfida? È stata una sfida, però devo dire che la Regione ha visto molto lungo questa cosa, nel senso che ha fatto grossi investimenti, non solamente qua. Ricordo che per chi è del mestiere, che gli investimenti che ha fatto la Regione Campania per il progetto, diversi centinaia di milioni di euro, che poi sono comunque lievitati per vari motivi anche dovuti a aumenti di mercato, questa investimenti è talmente grande che ha assunto al tempo una rilevanza europea per cui di fatto io che appartengo a una società francese, già sapevamo di questo, già attendavamo la Regione perché si attendeva questo grosso sviluppo. La Regione ha visto lontano e io ritengo che, parlo anche per gli altri impianti che bene o male conosco perché comunque viviamo nello stesso territorio, hanno raggiunto questi obiettivi per cui adesso la Regione può guardare avanti, guardare a nuovi obiettivi di rilancio. La cittadinanza ringrazia perché io so che la cittadinanza comunque, nonostante qualche difficoltà iniziale, perché comunque quando siamo entrati, ricordo che l'impianto non funzionava bene, c'era dei problemi, attenzione. Quindi questo degrado manutentivo che ripeto non era voluto, ma era subito dai tempi, era comunque una necessità, era qualcosa di inevitabile, per cui ci sono stati un po' di difficoltà con la cittadinanza, incontri con la cittadinanza, con i signaci, con le giunte, eccetera, eccetera, per poter spiegare i tempi e il lavoro fatto. Il lavoro è stato svolto, i ritorri li comprendiamo perché comunque l'apprezzamento c'è, la qualità dell'acqua è eccezionale, per cui non solo rispettiamo i termini di legge, quindi i limiti della Città 52, ma garantiamo dei limiti decisamente inferiori, almeno due volte e mezzo inferiori ai limiti di legge, quindi questo è un obiettivo raggiunto, quindi certificato, siamo controllati dall'ARPA, quindi dall'Agenzia regionale di controllo degli scarichi e delle emissioni in autosfera, per cui sia quando si guarda gli scarichi in acqua, in autosfera, il rumore, eccetera, siamo assolutamente sotto controllo. Se le chiedo se da uomo del nord lo si intuisce dall'accento, può invitare, come dire, anche i corregionali a venire a fare il bagno qui? Assolutamente sì, allora innanzitutto, insisto, la qualità dell'acqua in uscita è ottima e poi lo vedremo magari anche dal video, si vede, perché non solo siamo intervenuti sull'aspetto anche del contenuto, ma anche del contenuto batteriologico, perché di fatto l'acqua che esce è particolarmente buca, cioè con un po' di coraggio potrebbe anche berla, però diciamo che è un po' è un po' difficile pensare di poterlo fare, però potrebbe, c'è un contenuto batteriologico talmente basso che lo si potrebbe praticamente fare. Quindi la zona si presta moltissimo perché, come dicevo prima, è una zona altamente qualificata della comunità storica, archeologica e non solamente ambientale turistico, quindi veramente assolutamente. I fondi per la gestione degli impianti potrebbero non bastare mai. Di questo parliamo con il direttore generale dell'ente idrico, dei piani che ci sono per i prossimi cinque anni e anche oltre. L'ambito distrettuale Napoli Nord è il secondo distretto della Campania, ha circa 960 mila abitanti, è costituito da 31 comuni, tutti ricompresi nell'area nord di Napoli, nel luogo dove ci troviamo, il pianto di depurazione, arrivano le acque reflue di circa 10 comuni del territorio. è un territorio importante, storicamente anche determinante, quindi l'ente idrico campano pone massima attenzione a questo territorio. Direttore, la sfida del distretto, da qui a cinque anni, a partire ovviamente da quello che è stato deciso nel piano d'ambito distrettuale, quale sarà? Qualche settimana fa abbiamo approvato il piano d'ambito distrettuale, un piano d'ambito che ha visto l'aggiornamento del piano economico finanziario con una visione trentennale, ciò per dare la possibilità al gestore che arriverà, che verrà individuato dall'ente, una prospettiva temporale molto più ampia. E' importante questa visione ampia della prospettiva temporale perché il territorio di Napoli Nord, oltre a tutta una serie di problematiche di carattere generale, è caratterizzato da significative perdite idriche che necessitano in questo territorio, necessitano importanti investimenti per la loro definitiva risoluzione. Il fascino dell'antro della Sibilla sta nelle evoluzioni che ha avuto nel tempo, non possiamo non citare il grande archeologo Maiuri che lo riportò alla luce, e poi l'utilizzo nel corso dei secoli diverso, ma la leggenda narra che proprio qui ci fu l'incontro tra Enea e la Sibilla, la Sibilla lo introdusse nel mondo degli inferi facendogli incontrare il padre Anchise, capì Enea, che le anime si sarebbero potute purificare e dunque rinascere, reincarnarsi una volta effettuato questo processo, un po' come l'acqua che stiamo vedendo nel corso di questa puntata, che arriva nei sistemi di depurazione e che poi viene rilasciata al mare. Un impianto nato con i fondi della Cassa del Mezzogiorno e che rappresentava al tempo un fiore all'occhiello, un impianto che negli anni ha visto le tecnologie superarsi e per questo, con la mancata manutenzione, creare delle difficoltà e delle problematiche, problematiche che sono state affrontate a partire dal 2011 con un progetto importante, con ingenti investimenti. Oggi abbiamo a che fare con un impianto di depurazione all'avanguardia in Europa che utilizza raggi ultravioletti per il trattamento delle acque, ma andiamo a parlare con chi questo impianto lo gestisce, in particolare con una donna che è a capo del progetto interno. Questo impianto è a servizio di un territorio che ricomprende 11 comuni, tra cui parte del comune di Napoli, diciamo la zona ovest di Napoli, e poi tutta la parte di comuni posti a nord dell'impianto, quindi a partire dal comune di Mognano. In totale sono 11 comuni l'impianto raccoglie i reflui di questi 11 comuni tramite una rete di collettori comprensoriali che ha una lunghezza di ben 49 chilometri. I reflui che arrivano qui, che percorso fanno all'interno dell'impianto? Intanto l'impianto è dimensionato per ben 1.200.000 abitanti equivalenti. Gli ingressi dell'impianto sono due. L'ingresso principale è il cosiddetto collettore borbonico che raccoglie i reflui dei comuni di Napoli, Pozzuoli, Monte di Procida e Bacoli. E poi abbiamo un secondo ingresso che è denominato Fugna Nord che prende appunto tutti i comuni posti a nord dell'impianto stesso. Questi due ingressi, diciamo, una volta che il refluo arriva tramite i due ingressi viene sottoposto ad una serie di trattamenti che vengono denominati trattamenti preliminari. Quindi ci sono due sistemi di grigliatura. Poi c'è un sistema di... Ci sono sei vasche di dissabbiatura. Dopo le vasche di dissabbiatura il refluo arriva a delle vasche... Sono otto vasche circolari di 55 metri di diametro, quindi molto grandi, diciamo, e sono i cosiddetti sedimentatori primari. Il refluo in uscita poi dai sedimentatori primari arriva all'interno delle vasche biologiche. Abbiamo 14 vasche. In uscita poi dal biologico sedimentazione secondaria e il trattamento finale che è quello che è stato realizzato nell'ambito dei lavori di rifunzionalizzazione dell'impianto prevede appunto una filtrazione finale in una disinfezione con OB prima ovviamente che il refluo poi trattato a seguito, diciamo, di tutti questi trattamenti che vi dicevo prima arriva al corpo idrico recettore che nel caso specifico dell'impianto di depurazione di Cuma è il mare, diciamo, obbligato nel comune di Pozzuoli. Per quanti ci ascoltano e non sono tecnici addentro alla materia qual è il ruolo dei raggi ultravioletti che ha citato? Allora, il ruolo dei raggi ultravioletti è sostanzialmente quello di disinfettare il refluo in uscita perché il refluo comunque essendo appunto refluo ha una carica batterica in precedenza, diciamo, la disinfezione avveniva tramite ipoclorido quindi comunque con un agente chimico nell'ambito dei lavori di rifunzionalizzazione abbiamo sostituito questa disinfezione con ipoclorido di sodio appunto con una disinfezione a raggi ultravioletti che fa sì che ovviamente il refluo non sia additivato con un reagente ma subisca, diciamo, un trattamento di disinfezione naturale, tra virgolette. Meno agenti chimici impiegati nel processo anche meno volumi lavorati? In termini di acque ovviamente no in termini di fango sì perché dalle sezioni delle quali vi parlavo prima si produce il cosiddetto fango biologico che ha una sua filiera e ovviamente, diciamo, uno dei valori aggiunti dei lavori di rifunzionalizzazione è quello di aver consentito la possibilità di abbattere notevolmente la quantità complessiva di fango che viene prodotto dall'impianto perché sono stati aggiunti, diciamo, una serie di trattamenti che prima non c'erano quindi i fanghi, diciamo, che vengono estratti dai sedimentatori primari e dai sedimentatori secondari subiscono il processo di digestione anaerobica tramite il quale poi c'è la produzione di biogas che è un altro plus, diciamo, introdotto dai lavori di rifunzionalizzazione dopo la digestione di biogas vengono disidratati quindi viene, diciamo, tolta una buona parte di acqua all'interno e poi subiscono il trattamento finale nel processo di essiccazione termica tramite il quale il fango prodotto passa ad una percentuale di umidità molto bassa, parliamo di un grado di secco del 90% contro il 30% diciamo ante lavori quindi ovviamente anche a livello di volumetria abbiamo ridotto moltissimo la produzione di fango e questo ha impatto anche sul ciclo esterno al depuratore perché trasportare 3.000 tonnellate piuttosto che 600 ha un impatto ambientale diverso come viene trattata l'aria che qui è un'altra delle componenti? Sì, l'aria, diciamo, anche questo nel corso dei lavori di rifunzionalizzazione sono stati messi a punto tutta una serie di sistemi di diodorizzazione in aggiunto a quelli che erano già presenti in quelle che sono le zone, diciamo, maggiormente od origine tra virgolette dell'impianto e questo ovviamente ha fatto sì che, diciamo, l'impatto od origine si sia molto ridotto anche e soprattutto sulla zona fanghi perché pensate che prima dei lavori di rifunzionalizzazione i fanghi dal comparto di disidratazione andavano direttamente in cassoni aperti adesso invece sono stati realizzati dei silos di contenimento che ovviamente fanno sì che l'odore rimanga all'interno del silos e non sia, diciamo, sprigionato, tra virgolette spesso guardiamo al rubinetto di casa all'acqua che scorre nelle nostre abitazioni e non ci rendiamo conto di quanto sia importante l'altro ciclo quello delle acque nere il viaggio nel depuratore di Kuma ci sta facendo capire invece l'importanza e l'attenzione dovuta anche a questo settore anche a questo percorso d'acqua grazie alla rifunzionalizzazione dei digestori che consentono appunto la digestione anaerobica del fango viene prodotto il biogas che contiene diciamo al proprio interno tra l'altro metano e che quindi diciamo noi riutilizziamo all'interno dell'impianto preve ad esolforazione sia possiamo avere diciamo due tipi di utilizzo lo possiamo utilizzare sia sempre preve ad esolforazione per cogenerare quindi per produrre energia elettrica che ci serve diciamo per alimentare tutte le macchine dell'impianto non tutte ma diciamo una parte delle macchine dell'impianto oppure può essere anche utilizzato per alimentare le due caldaie dei due sistemi di essiccamento che abbiamo realizzato recentemente l'impianto è supervisionato quindi c'è un sistema di telecontrollo anch'esso realizzato diciamo nell'ambito dei lavori di rifunzionalizzazione che ha io dico rivoluzionato diciamo il modo di gestire l'impianto ma perché è un sistema che consente diciamo di tenere tutto l'impianto sotto controllo ed è un sistema che riceve H24 qui abbiamo delle squadre di conduzione che fanno tre turni giornalieri H24 365 giorni l'anno quando c'è un problema diciamo in impianto il sistema di telecontrollo è tale che segnala il problema agli operatori per cui diciamo a seguito della segnalazione del problema agli operatori ovviamente a seconda della tipologia di problema e se è necessario intervenire fanno intervenire le squadre di manutenzione che sono diciamo presenti in impianto Lavorare in questo impianto e osservare la meraviglia di questa costa è una responsabilità in più? Sì, infatti io dico sempre che ho come dire l'onore e l'onere di fare il direttore dell'impianto di Puma che è un lavoro abbastanza totalizzante dal punto di vista anche personale che mi comporta diciamo una responsabilità non da poco Pensiamo alla piscina Mirabilis di Puma o ad altri monumenti scavati dall'uomo per custodire l'acqua insomma la tecnologia al servizio dell'uomo oggi la tecnologia dell'impianto di depurazione di Puma ci porta alla produzione di biogas o di altri materiali che vengono utilizzati in altri settori la cosiddetta economia circolare L'impianto è costituito essenzialmente di due grossi filoni la linea acque e la linea fanghi l'energia noi la produciamo attraverso la linea fanghi cioè la parte solida che viene estratta dal refluo e segue un suo percorso ben distinto questo fango viene immagazzinato all'interno di contenitori in calcestruzzo armato dal nome digestori che hanno la funzione proprio di digerire il fango e creare la parte aeriforme il cosiddetto biogas questo biogas viene estratto viene raccolto in un cosiddetto gasometro e viene attraverso un processo di purificazione reimpiegato all'interno del ciclo produttivo questo biogas contiene circa il 65% di metano quindi questo metano noi lo reimpieghiamo o direttamente nelle caldaie che servono altri settori tra cui quello dell'essiccamento ovvero lo convogliamo presso dei motori cosiddetti cogeneratori che hanno la funzione di autoprodurre energia elettrica energia elettrica che viene reimpiegata all'interno del ciclo produttivo riuscendo così a coprire circa il 30-35% del fabbisogno dell'impianto il processo dei fanghi è stato ulteriormente ottimizzato rispetto al passato perché il fango viene privato della parte liquida dell'acqua attraverso due passaggi successivi una prima parte di disidratazione una successiva di essiccamento in particolare in questo secondo processo quello dell'essiccamento che viene fatto attraverso due linee di forni si riduce la quantità di acqua portandola al solo 10% otteniamo così un fango che impatta pochissimo dal punto di vista od origeno e riducendo drasticamente la quantità di acqua anche le quantità stesse che poi si ottengono e che vengono quindi poi successivamente smaltite o recuperate diminuiscono oltremodo rispetto al passato l'abbattimento è stato di circa il 70% il prodotto finale oltre ad essere diciamo smaltito noi abbiamo messo in campo anche delle azioni per il recupero di questo fango perché ha un elevato potere calorifico e quindi può essere reimpiegato come combustibile noi attualmente lo stiamo convogliando verso un impianto un cementificio che lo utilizza al posto della polvere di carbone quindi utilizza il nostro fango essiccato avente un elevato potere calorifico al posto della polvere di carbone quindi come combustibile quindi c'è un rimpiego totale ed ora diamo voce ai sindaci del distretto sono tanti e custodiscono delle terre meravigliose che con l'acqua hanno a che fare e che hanno tanto da dare all'acqua e tanto da ricevere il presidente del distretto è il sindaco Luigi Sarnatà tutti conosciamo l'antro della Sibilla chi è di queste parti e non solo è una zona magica ma è una zona che ospita ecco uno degli impianti probabilmente uno dei più grandi impianti di depurazione di tutta la regione campagna l'impianto di depurazione di Cuma diciamo ecco abbiamo scelto di girare qui di fare qui un altro percorso d'acqua perché l'acqua fa un percorso particolare noi spesso quando pensiamo all'acqua siamo portati a pensare solo all'acqua potabile l'acqua che si beve ecco l'acqua è anche il servizio che ne offriamo è anche quello della depurazione quindi la gestione dei reflui questi reflui che vanno a mare e che chiaramente spesso se non trattati chiaramente portano dei problemi inquinano le coste e in molti casi non rendono balneabili le nostre zone ecco per troppo tempo il litorale, questo litorale quello di Pozzuoli, di Varcaturo, di Licola anche Castelvortunno sono stati quasi completamente diciamo inutilizzabili dal punto di vista balneare e invece da un po' di anni ecco grazie a un forte investimento che anche la regione campagna ha fatto insieme ai propri partner partner ecco diciamo che oggi gestiscono questo impianto abbiamo di nuovo una balneabilità in queste zone e si può fare ovviamente ancora di più possiamo citare anche le isole all'interno del distretto quindi tra i comuni aderenti sindaco un anno fa parlavamo di gestione c'è stato un duro lavoro sul campo che ha portato anche a delle scelte oculate ecco in questi mesi che cosa è accaduto? allora semplice pur restando fedeli al concetto a quelli che sono i principi referendari del famoso referendum del 2011 sull'acqua pubblica nel fare anche un confronto con i colleghi sindaci ci siamo dovuti confrontare anche su quelli che sono i costi per i comuni di mettere su diciamo una società a totale partecipazione pubblica per la gestione evidentemente diciamo i comuni non hanno le risorse oggi necessarie per poter mettere su questo tipo di discorso non hanno neanche probabilmente il now-how necessario per gestire ecco situazioni come queste con un'elevata anche competenza un now-how dal punto di vista tecnologico la scelta quindi che è stata fatta è stata quella di in maniera più oculata mantenere quella che è la predominanza la prevalenza del capitale pubblico quindi 55% proprietà dei comuni e 45% la scelta di un partner industrializzato che perché no può essere pubblico, misto o privato qual è la sfida allora e come vede il distretto da qui a 5 anni qual è il lavoro che andrete a fare adesso? e adesso il lavoro importante è quello di andare rapidamente verso l'approvazione dello statuto di questa nuova società dell'atto costitutivo far sì che i comuni aderiscano nel più breve tempo possibile per consentire poi alla regione di procedere con la gara a doppio oggetto per l'individuazione del partner industrializzato e finalmente partire e arrivare a quel trend di cui io dico anche meno di 5 anni auguro di avere finalmente il gestore unico anche nel secondo distretto della nostra regione Il distretto è indissolubilmente legato alla natura pensiamo al bradesismo che investe quest'area ciclicamente in questa fase nella quale stiamo registrando si stanno vivendo dei giorni comunque intensi come ci spiega il sindaco di Pozzuoli anche se l'impianto di depurazione si trova fuori dalla zona rossa Diciamo che comunque è un impianto se non il più importante che sia la regione Campania dagli ultimi anni sono stati fatti gli investimenti importanti ci consente quindi una depurazione delle acque sufficienti in modo da rendere dal punto di vista ambientale questa zona accettabile non ci fermeremo naturalmente di richiedere ulteriori finanziamenti per migliorare sempre di più le tecniche di questo impianto che reputo di fondamentale importanza del territorio Lo sviluppo turistico è intrinsecamente legato anche a questi impianti? Sicuramente è intrinsecamente legato naturalmente avere una zona balneabile, avere una zona dal punto di vista ambientale sana sono punti di attrazione per quello che riguarda il turismo quindi andiamo avanti insieme in maniera sinergica per chiedere sempre di più migliorie su questo impianto che reputo di fondamentale La citazione è un lapsus freudiano perché il bradisismo è sicuramente un tema ma al di là di questo il bradisismo impone una visione sistemica è anche quello che bisogna fare sullo sviluppo ambientale probabilmente Sicuramente anche se l'impianto è fuori dalla zona bradisismo però comunque è da monitorare è da tenere in osservazione anche un impianto del genere L'ultima domanda Sindaco lo sviluppo di questo mare come lo immagino da qui a 5-10 anni? Io penso che comunque lo sviluppo il volano economico del litorale Domizio è proprio lo sviluppo della costa ci sto lavorando con il ministro per togliere quel vincolo che c'è del 1918 il vincolo del lago di Cuma che non c'è tra l'altro alla fine il lago non esiste più si sta lavorando con la speranza di poter avere comunque dei cambiamenti urbanistici che ci consentano di sviluppare questa zona che io reputo bella e soprattutto importante per le comunità che si affacciano Avere livelli di inquinamento al di sotto della soia nei limiti di legge è fondamentale per restituire al mare acqua pulita e depurata una gestione efficace del sistema idrico significa anche uno sviluppo possibile del territorio e dell'ambiente come ci spiega il presidente Luca Mascolo Il litorale Flegreo è uno dei litorali più belli del Mediterraneo va recuperato interamente alla sua funzione naturale che è quella di uso della risorsa mare anche a fini turistici a fini ambientali a fini naturalistici e penso che oramai l'obiettivo sia stato raggiunto va consolidato va consolidato con l'affidamento della gestione nel distretto Napoli Nord e con la sistematizzazione di tutte le azioni il distretto Napoli Nord è un distretto complesso è un distretto complesso perché oltre a raccluppare tutti i comuni che sono nella cinta periurbana della città di Napoli ha al suo interno anche le isole di Ischia e di Procida sono due elementi importanti del sistema e anche lì c'è un corso un'imponente opera di recupero ambientale soprattutto di costruzione di repuratori e di reti per permettere la reimmissione in ambiente dell'acqua depurata rinaturalizzare recuperare quel rapporto simbiotico con la madre terra creare le premesse per non avere più scempi e inquinamenti secondo me è un dovere degli amministratori di oggi che devono avere la capacità di puntare alla soluzione dei problemi immediati ma anche a guardare alle generazioni future tutto questo passa attraverso un impegno costante quotidiano che noi mettiamo in campo in tutta la regione Campania che ci ha portato a mettere in gestazione risorse enormi siamo a circa un miliardo complessivamente tra idrico e fognario ma sono tutti i progetti che devono essere portati a termine realizzati perché solamente l'efficienza e l'efficacia della rete infrastrutturale può consentire il recupero delle risorse del territorio e dare una chance e un'opportunità in più a chi verrà dopo di noi Lasciamo l'antro della Sibilla con un dubbio non abbiamo potuto chiedere quale sarebbe stato il prossimo percorso d'acqua che avremmo incontrato ma c'è una certezza una nuova puntata con delle meraviglie della campagna da scoprire alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti